andiamo veloci d'alberto ciao 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 luca come stai bene benissimo sì sì molto bene questo discorso come sta andando chi ci ferma non ci ferma nessuno nessuno no è stato davvero bellissimo davvero molto bello mi è piaciuta tantissimo la parte riguardo la motivazione riguardo i fallimenti migliorarsi giorno dopo giorno soprattutto la parte del fallimento si dice che il fallimento sia la madre del successo io condivido pienamente perché io credo che fallimento dopo fallimento si riesca a capire davvero ciò che fa parte di noi e ciò che non fa parte di noi e questo ci aiuta ad avere maggiore consapevolezza del di noi stessi no anche la legge del clown di cui hai parlato è stato davvero un bellissimo momento ti ringrazio senti tu come ti senti in questo periodo questa pandemia non so dico te personalmente ma anche ai ragazzi che che frequenti che conosci come vi sta condizionando allora sicuramente inizialmente c'è stato un po di abbattimento perché non potersi vedere non poter fare le cose a cui siamo abituati è sicuramente stressante e negativo dal punto di vista proprio mentale poi invece ho cominciato a cambiare a cambiare anche un po il pensiero e cercare di trovare nuovi nuovi spunti nuovi nuove occasioni nuove opportunità ho iniziato a studiare altre cose al di fuori anche della scuola a volte a trovare nuove passioni tutto ciò mi ha aiutato intanto a crescere a livello personale anche a perseguire nuovi obiettivi quindi da una parte ci sono stati anche dei risvolti positivi da questo ecco trovare una risorsa all'impedimento è sicuramente la chiave straordinaria vincente che può aiutarci a trasformare prendi il momento difficile in grandi opportunità quindi Alberto hai fatto benissimo continua su questa strada e mi raccomando chi lo ha capito chi si sente per un attimo un po più forte sorregga sempre chi intorno a noi è più debole e magari affronta un momento di difficoltà poi un giorno magari vi dirà grazie e sarà sicuramente bello tra di voi l'amicizia è un qualcosa di importante e anche questo vuol dire essere amici